Ciao a tutti, io sono Laura e benvenuti nel mio mondo dei giocattoli. Oggi abbiamo un glen pageant della Disney Princess, dai 4 anni in su. Guardate, questa è l'immagine. Ah, aspettate, anche qua c'è l'immagine, però è più grande. Allora, in tutto sono 50 pezzi. Vediamo in quanto tempo ci riesco. Vedete, sono abbastanza pezzi, non sono né tanti né pochi. Prima di tutto dobbiamo girarli tutti. Pazienza. Ok, dopo che li abbiamo girati tutti, cominciamo da bello. Che bello! Allora, lo faccio prima da qui, per lo giro, perché non lo faccio. Allora, lo faccio prima da qui, per lo giro, perché non lo faccio. Vediamo. Vediamo. E questo? E poi... E poi... Ok, adesso mettiamo un po' Qu'è? C'è quel che grigge con tirti? E per la vita? Oxe. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ok, mi manca l'ultimo pezzo. Ecco qua! Grazie mille! Ok, questo è il puzzle. Ok, allora, visto che l'ho finito, adesso vi posso dire di mettere like e commentare qui sotto, iscrivetevi a questo canale e anche a quello di me e mia sorella. Rosia, Laura e le gemelle che trovate in descrizione. Ciao!